Il Signore ha voluto chiamare a sé il caro Don Matteo, risultato positivo al Covid-19. Dopo giorni di terapia intensiva, il suo cuore ha smesso di battere. Era stato ricoverato presso il Covid Hospital di Agropoli lo scorso 23 novembre e il suo cuore forte ha lottato con tutte le forze per sopravvivere, ma il virus è stato più forte di lui e lo ha strappato all'età di 51 anni ai suoi affetti, ai tanti fedeli che gli volevano bene. In lutto la comunità di Perdifumo dove svolgeva la sua missione di fede da due anni. Tanti messaggi di cordoglio scritti sui social. Il Signore ha chiamato a sé un sacerdote ed un uomo buono, discreto, disponibile, generoso, una persona per bene. Amabile e gentile era arrivato due anni fa quasi in punta di piedi. Abbiamo subito imparato ad amarlo per la sua umanità, per il messaggio di discrezione, laboriosità e amicizia che aveva saputo da subito trasmettere con tutti, indistintamente. È stato capace di entrare in sintonia con la sensibilità profonda e le tradizioni della nostra comunità che ha saputo cogliere fin dal primo momento le esigenze del nostro paese, attento all'assistenza, agli anziani e soprattutto alle persone sole. Questo dannatissimo virus che lo ha strappato alla vita terrena nell'adempimento della sua opera pastorale lascia tutti noi attoniti di fronte a domande che non trovano risposte, nel tentativo inutile di dare una spiegazione logica a quello che istintivamente viviamo come un'ingiustizia e non comprendiamo. Con la sua semplicità, disponibilità e forte carica umanitaria è riuscito a conquistare la stima e l'ammirazione non solo dei credenti, ma anche di coloro che sono un po' più lontani dalla fede. Se n'è andato non solo un grande uomo di chiesa ma una persona squisita e lo affermo senza alcuna retorica, che mancherà a tutti. Il risultato della sua missione pastorale è straordinario e il suo ricordo rimarrà indelebile. Grazie Don Matteo soprattutto per l'amicizia, la serenità, la dolcezza e l'equilibrio con cui hai accompagnato nella nostra comunità la tua presenza operosa, caratterizzata sempre da docilità e delicatezza d'animo, ma nello stesso tempo silenziosa e mai invadente. Un giorno triste per tutti noi ripose in pace. Questo è il messaggio di Stefania Desimone, cittadina di Perdifumo ed ex assessore. Anche Don Pasquale Gargione, parroco di San Marco di Castellabate e cittadino di Perdifumo ha voluto ricordare il caro Don Matteo. Con animo colmo di tristezza e di sofferenza, ma animati anche dalla speranza della risurrezione e della vita eterna, comunichiamo che questa sera alle ore 20 e 30 circa il nostro caro Don Matteo ha reso la sua anima a Dio. Nel salutarlo con le parole della nostra fede, gli diciamo semplicemente grazie per tutto ciò che ha donato a Perdifumo, Camella, Casigliano e Mercato Cilento, la sua vita e il suo impegno pastorale che ha svolto con amore, dedizione, sacrificio, serietà, disinteresse, povertà. Addio, caro Don Matteo, e dal Paradiso continua a pregare per noi e per tutta la Chiesa. Signore misericordioso che il tuo servo Matteo, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi ha affidato la tua parola e i tuoi sacramenti, donagli di esultare per sempre nella liturgia del cielo. In mattinata la salma sarà portata direttamente a pianura nella cappella cimiteriale dei padri vocazionisti per la tumulazione. Ciao Don Matteo, ripose in pace. Anche la redazione di Cilento Channel si stringe al dolore dei familiari per la perdita del caro Don Matteo.